Assessore Leuzzi, membri della Giunta ma anche del Consiglio, di tutto il Consiglio Provinciale si riuniscono per la questione della caccia, insomma i consiglieri cacciatori vogliono dire la loro, così? Ma direi che è stato essenziale questo apporto dei consiglieri provinciali cacciatori per dare un attimo respiro a tutte le istanze che stanno pervenendo e che pervengano anche a loro nelle rispettive zone dell'entroterra dove svolgono l'antività allenatoria in merito all'ennesima sospensione data da Luttaro sul calendario della caccia della regione di Guglia. E' una cosa indecente, purtroppo si è aperta una caccia alle streghe dove i cacciatori fanno sempre la figura dei cacciati o dei cacciabili, direi che è una cosa che va interrotta nel più breve tempo possibile. Abbiamo chiesto l'incontro col prefetto in merito a questa vicenda perché non vorremmo che esagitati andassero e forzassero la mano.